Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è il glitch per passare le auto agli amici Ho voluto rifare il comment perché ieri sera ho avuto un problema con il microfono Però era un po' tardino e non avevo voglia di stare lì a ricommentare un'altra volta il video Quindi ho fatto un altro comment Allora per fare questo glitch servono tre amici, il veicolo che volete duplicare, una sessione sola in viti Il bunker e una LG normale dentro il comma Quindi passiamo al primo passaggio Amico 1 L'amico 1 che cosa dovrà fare ragazzi? Dovrà entrare dentro una missione creata da Rockstar In questo caso sta entrando in un lavoro da titano E aspetterà lì nella missione Aspetterà che l'amico 2 andrà ad unirsi a lui Quindi a questo punto L'unica cosa che l'amico 2 dovrà fare è entrare nel bunker ragazzi Una volta entrato nel bunker l'amico 2 andrà dietro al suo centro operativo E si posizionerà dietro al suo centro operativo Quindi andiamo a vedere bene i passaggi Una volta che è qui dietro al centro operativo Dovrà andarsi a unire all'amico 1 tramite amici ragazzi Quindi andiamo a vedere i passaggi Allora questo passaggio di andare ad unirsi Lo dovete fare due volte In maniera tale che il procedimento sia un po' più rapido E evitare che si bughi Perché se non fate questo procedimento Si bugga ragazzi Quindi Allora l'amico 2 va ad unirsi all'amico 1 da amici Come state vedendo Fa partecipa a sessione Quindi va in panoramica GTA Fa partecipa Preme il tasto partecipa Il gioco lo ributta in game Skippa questo messaggio Preme cerchio su questo messaggio Deve aspettare che torna il pallino azzurro Una volta che torna il pallino azzurro Si dirige sul pallino azzurro Preme due volte tasto PS E fa partecipa a sessione Con questa velocità Con quella che state vedendo E accetta tutti quanti i messaggi Molto velocemente ragazzi Con la velocità che avete visto Chissà quanto veloce A questo punto L'amico 2 si ritroverà nel bunker E non vedrà Diciamo non vedrà un cazzo Non vedrà veramente nulla Vedrà solamente il bunker E basta L'unica cosa che l'amico 2 Adesso dovrà fare È posizionare una carica di C4 Giusto giusto Dove sta il centro operativo Una volta fatto ciò L'amico 1 può anche uscire dalla Dalla missione insomma Una volta uscito Passiamo al prossimo passaggio Il prossimo passaggio ragazzi Sarà il nostro Quindi Attendiamo che l'amico esca Perché l'amico 1 Qui andrà ad aiutarci Noi che stiamo facendo il glitch Dobbiamo Andare sul centro operativo mobile E fare Richiedi pericolo personale In maniera tale Che Ci venga consegnata la LG Quella che è dentro Il centro operativo mobile Ricordatevi di mettere Prima la LG Dentro il centro operativo mobile Per fare questo passaggio Quindi Una volta che avete preso la LG L'unica cosa che dovete fare È metterla nel bunker Non nel centro operativo mobile Ma nel bunker Vi faccio fare questo passaggio così Perché altrimenti Se voi andate nel bunker Salite sul centro operativo mobile E portate fuori l'auto Si potrebbe Buggare tutto E Potrebbe compromettere il glitch Potreste rimanere In una schermata nera Infinita A questo punto Quando siete nel vostro bunker Posteggiate la L'LG RH8 La posteggiate dietro Al centro operativo Ed uscite fuori dal bunker Il passo successivo Sarà Quello In cui dovete Prendere il veicolo Ragazzi Quindi usciamo fuori dal bunker Una volta fuori dal bunker Ragazzi Che cosa dobbiamo fare Dobbiamo salire In auto Con il nostro In auto O nel veicolo Che vogliamo Con il nostro amico 1 Il nostro amico 1 In questo caso Che cosa dovrà fare Adesso siamo sulla schermata Dell'amico 1 Dovrà andare Verso Verso il bunker E premere triangolo In prossimità Del bunker In maniera tale Da scendere Prima di entrare Nel bunker Dovrà semplicemente Premere triangolo In questo caso Ragazzi Non è riuscito Ho lasciato questo tentativo In maniera Perché voi capiate Che non è che riesce Subito A prima kit Insomma Non è tutto facile Quindi Riusciamo un'altra volta Dal bunker E Vediamo come Come va fatta Questa cosa Allora ragazzi Ci mettiamo L'amico Che vi sta aiutando Quello che vi sta dando Il veicolo Ovviamente Si mette In posizione E Come sta per arrivare Al pallino Scende E si allontana Immediatamente Dal veicolo Perché altrimenti Potrebbe venire Risucchiato dal bunker E quindi Potrebbe far saltare Tutto il glitch Noi che siamo Diciamo Sul veicolo Non dobbiamo scendere Ragazzi Ma Automaticamente Il personaggio Salterà di posto E vedremo Quell'animazione Che avete visto Ci ritroveremo Dentro il bunker Del nostro amico Con il suo veicolo A questo punto Dobbiamo Semplicemente Uscire dal bunker Del nostro amico Ed entrare Nel nostro bunker Quindi ci avviamo Verso il bunker Ed entriamo Nel nostro bunker Con amici Quindi Faremo In questo caso Entra con amici Anche perché Il nostro amico Uno Sarà quello Che continuerà Ad aiutarci Anche nel bunker Quindi Come vedete Ragazzi Abbiamo nel nostro bunker Il dune Quindi ci dirigiamo Verso il nostro veicolo In compagnia Dell'amico Uno Come vedete Ragazzi Abbiamo l'amico Tre Che è Diciamo Nel bunker Come state Vedendo Quindi Una volta Che siamo Nel bunker Con il nostro Amico Uno Il nostro Amico Uno Dovrà diventare Ceo Ragazzi Dovremmo salire Tutte e due In macchina E Quando saremo In macchina Il nostro Amico Uno Andrà su Ceo Securo Serve E dovrà Posizionarsi Su Ritirati Si dovrà Ritirare Cioè Non dovrà Ritirarsi Dovrà posizionarsi Sopra questa schermata Nel frattempo Noi Premeremo La freccetta Quando lui Sarà posizionato Su Ritirati Noi Premeremo La freccetta Si accenderanno Gli stop Posteriori Quindi Significa Che saremo Buggati A questo punto Il nostro Amico Si ritira E l'amico L'amico Tre Cioè Scusate L'amico Due Ragazzi Dovrà Fal saltare Il Il centro Operativo Mobile Una volta Fatto saltare Il centro Operativo Mobile Come avete visto L'esplosione E tutto il resto L'amico Due Che cosa dovrà fare Dovrà entrare In una missione E dovrà Fermarsi Lì L'altro passo Dovremmo farlo Noi ragazzi Noi che stiamo Facendo il glitch Andiamo Ad unirci Tramite Parti Al nostro Amico Due Quindi andremo Ad unirci Quando saremo Sulla schermata Nera Diremo Al nostro Amico Due Che siamo Sulla schermata Nera Lui uscirà E non appena Sarà Spawnato Noi accetteremo Tutti quanti I messaggi Non dovremo Accettarli Prima Solamente Quando il nostro Amico Due Sarà Spawnato Quindi accettiamo Tutti i messaggi E ci ritroveremo Dentro al bunker E potremo Muoverci Tranquillamente A questo punto Non resta Da fare Che l'ultimo Passaggio Ragazzi Quello per rendere Nostro Effettivo Il veicolo Che abbiamo Preso Dal nostro Amico Saliamo Sul veicolo E ci dirigiamo Verso La porta di entrata Ragazzi La porta che avete L'entrata del bunker Automaticamente Partirà Questa animazione E automaticamente Saremo risucchiati Nel centro operativo Mobile Allora In questo caso Il mio veicolo Che io ho preso Era molto grande Quindi non entra Dentro il centro operativo Mobile Era grande Più o meno Come il Cassone Del centro operativo Mobile Quindi è abbastanza Grande E non si vede Trasparente Però Se vado fuori Lo richiamo Allora ragazzi Se uscite dal centro operativo Mobile Come ho fatto io Potreste rimanere Buggati Quindi che cosa Dovete fare Andate in attività Recenti Anche una delle vostre Attività recenti E fate avvia GTA Online Per potervi Sbagare Oppure se Non volete rimanere Nella sessione Col vostro amico Non vi interessa Basterà andare Nel creatore Appena avete fatto Il tutto E siete nel centro Operativo mobile E vi muovete Ancora Andate in creatore Cambiate sessione E automaticamente Troverete Il vostro veicolo A vostra disposizione Io in questo caso Mi ero Buggato E mi sto sbaggando Ragazzi Questi sono Diciamo Errori Che comunque Fa il gioco Quindi una volta Sbaggati Andiamo fuori E andiamo a richiedere Il nostro Peicolo personale Ragazzi Niente di più semplice E Il glitch Essendo riuscito bene Vi arriverà Il vostro dune Allora Ragazzi Il glitch Non è né facile Né difficile L'ho voluto Riportare Anche se qualcuno Mi ha detto Però rifarlo Rifarlo Ragazzi A me è costato Tantissimo Fare questo video Fortunatamente Avevo il progetto Salvato Quindi ho dovuto Rifare solamente Il comment E di questo Ne sono contento Quindi spero Veramente Che questo video Venga apprezzato Nella giusta maniera Ringrazio Ancora Frenz Di avermi dato Una mano Frenz671 Perché Come ho già detto Nel video precedente Senza di lui Non avrei potuto Girare questo video Quindi un grazione Proprio particolare A Frenz671 Spero che potrete Usufruire Di questo glitch Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti